60 anni dovrei stare a casa con i nipoti Cristo altro che andare in bicicletta che porca di quella vacca mettiamo un po' di musica vediamo un po' per ora tutto bene finché c'è già la voce da Stevie Wonder si tutto bene il sole c'è e dietro le nuvole ben nascosto che ci sputa addosso la neve c'è però è nera e sciolta l'asfalto per ora c'è andiamo la natura com'è? un gesto d'amore delle piante che si abbraccia ce l'hanno loro e ci mancano alcuni cristiani o magari poi la sta strozzando e lo facciamo e lo facciamo e lo facciamo e lo facciamo Grazie a tutti. 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 No, perché in fondo in fondo siamo delle mezze seghe. E' sudore, si vede anche dal colore. Come lo classifichiamo sto giro? Ma io direi mai basta. Sì, giro mai basta. Questo giro mai basta. Uno degli ultimi? No, no, no. No, non sarà mai. No, non sarà mai. A tutti, ciao. Che sono gli sfigati che sono in giro con questo tempo? Ehi. 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 Ciao Luca, io farò mangiare Giornata veramente interessante Partita a merda Però ci siamo divertiti Riccola è un grande E' sempre piacevole Anche con tempo di merda così Ma ci sarebbe E' andata bene Musica, palla, tabacco E buonanotte Ciao raga